Che cosa animava suo padre nella raccolta di questi dipinti così importanti? Mio padre ha sempre collezionato arte. Prima di questa collezione aveva una collezione dell'Ottocento con autori pregevoli, quindi era proprio, diciamo, una sua tendenza interiore l'interpretazione e la valorizzazione del bello che trovava nelle opere di artisti che incontrava e che conosceva. Però li sapeva scegliere con molta precisione aderenti ai propri criteri che indubbiamente erano anche scientifici. Qui c'è una coerenza, un'unitarietà, divisione dell'arte, divisione del mondo interiore ed esteriore che è eccezionale e che comincia a nascere subito nel dopoguerra, negli anni 47-48. E lei e sua sorella, le figlie, no? Vi siete preoccupate di proteggere questo patrimonio? Certamente. Noi abbiamo, siccome siamo cresciute insieme a questo patrimonio, noi abitavamo con queste opere, quindi abbiamo vissuto, si parlava della vita comune, di argomenti comune, e questi sempre erano intorno a noi. E anche gli artisti abbiamo conosciuto, i critici d'arte che ruotavano intorno a questi artisti e a queste gallerie anche che li esponevano. Quindi noi abbiamo vissuto un mondo privilegiato che è entrato a far parte di noi e non ci sentivamo un domani, invecchiando i miei genitori, purtroppo sparendo, questa costruzione andasse demolita e le opere andassero disperse. Allora abbiamo pensato che ormai, esaurita la situazione familiare, dovevano essere esposte al pubblico, queste opere condivise, l'arte visiva va condivisa e quindi abbiamo pensato di vincolarle per intero, unitariamente, non si può smembrare e quindi affidarla anche a strutture che potessero gestire e diciamo anche valorizzare e anche salvaguardare la collezione stessa.